Piccolo ma prezioso è il tema che quest'anno caratterizzerà la giornata nazionale delle famiglie al museo. L'iniziativa, sostenuta e promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell'Aquila e organizzata dall'Associazione Mamme per l'Aquila, si terrà il 14 ottobre presso il Monda. L'evento è stato presentato in conferenza stampa dall'Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune Sabrina Di Cosimo, dalla dottoressa Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, da Valeria Baccante, presidente dell'Associazione Mamme per l'Aquila e da Simona Balassone dell'Associazione Di Munda. Dopo il successo dell'anno precedente con la coinvolgente giornata di Burattini Cantastori e Mastri Gelatai, evento che ha fatto registrare il maggior numero di visitatori al Monda, l'Assessorato alla Cultura e il Polo Museale hanno voluto rinnovare e rafforzare la collaborazione in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo. L'evento prevede una lettura del percorso museale a misura di bambino, una lente di ingrandimento sul patrimonio culturale abruzzese dall'archeologia al Medioevo, passando per il 400, le meraviglie di Saturnino Gatti, maestro del Rinascimento Aquilano, il 600 con performance e spiegazioni che rendono partecipativo il bambino in modo ludico, facendolo interagire in un ambiente corto, sì, ma non lontano, anzi vicino. Ad animare le visite guidate ci saranno danze medievali, aeree, breakdance, hip-hop, vari stili di danza adattati per ogni area storica e tematica del museo, con le coreografie curate da Jacopo Scotti, Nicoletta Ragone, Roberto Parisse e Luisa Vivio dell'Accademia Scuola Danza Zero Gravity. E a completare l'evento ci saranno i laboratori del Servizio Educativo del Museo Nazionale d'Abruzzo e dell'Associazione di Monda di Simonetta Balassone. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione ai numeri 324-5474-537 oppure 348-5616363. Ci saranno diversi gruppi alle 11, alle 12, alle 16 e alle 18.